Questo posto è magico, ragazzi. Adesso voglio sentire in moto questa Exige e vediamo come lavora questo capolavoro della tecnica. Grazie a tutti. Quanti ne fa? 463. E 493 Nm. Buongiorno, sono Andrea Maselli, uno dei soci di Acme e ci troviamo qui nella sede di Castellò del Garda dedicata alla preparazione delle macchine per i privati. Siamo partiti per gioco perché era un secondo lavoro sia per me che Matteo però in poco tempo siamo subito arrivati a ottenere progetti importanti nel motorsport. Abbiamo sviluppato la Giulietta TCR e poi l'Abar 124. Tutta la parte di Meccatronica era seguita da noi. Qua ci troviamo all'interno della sala di controllo del banco dove di solito i nostri ingegneri mappano le vetture da competizione in quanto essendo totalmente controllate da cambi sequenziali e quindi non c'è più la necessità di avere un operatore sulla vettura che mette e toglie marcia possiamo tranquillamente lasciare la macchina da sola sul banco e controllare in remoto direttamente da qua. Nel caso delle stradali invece c'è sempre tendenzialmente un operatore di banco e un operatore in macchina o solo un operatore in macchina nel caso in cui segua sia le operazioni del banco che sia quelle di mappatura. A metà del 2016 ho abbandonato il mio ruolo operativo in Acme perché sono stato chiamato Hyundai Motorsport e fino allo scorso dicembre il mio lavoro è stato Hyundai Motorsport però ho sempre seguito dall'alto cosa avveniva qua dentro. Recentemente ho diminuito il mio impegno in Hyundai e stiamo affrontando nuove sfide qua in Acme cercando di sviluppare alcuni nuovi business. Qua siamo all'interno della sala banco prova della nostra sede di Castelnuovo del Garda dove abbiamo un banco prova abdaino dell'Aerotronics uno sia l'unico in Italia ad uso anche per i privati di questa tipologia di banco è composto da 4 hub come potete vedere dove al loro interno c'è un grosso freno con una cella di carico in grado di misurare la coppia erogata dal motore. I pro di questo banco sono molteplici in primis l'auto essendo direttamente collegata al banco non c'è rischio come sui rulli che possa cadere tra virgolette dal banco oppure avere un non perfetto attrito tra il pneumatico e il rullo e quindi dare delle misurazioni di coppia non reali. In secondo luogo possiamo addirittura fare sede differenziali perché essendo i freni pilotati non per asse ma per singola ruota noi possiamo scegliere grazie a determinati programmi che abbiamo sul software dell'Aerotronics di frenare più o meno una ruota e quindi andare a fare simulazioni di carico su un differenziale calcolare le rampe quanti chili insomma andare a parametrizzare a linearizzare i differenziali. In particolare è l'impianto di areazione che abbiamo scelto a parte la ventola anteriore fornita direttamente col banco d'Aerotronics che serve per raffreddare le masse radianti poste sul frontale del veicolo abbiamo interpellato una delle migliori aziende credo in Italia se non in Europa di aggiornamento ussico e di preparazione appunto di sale per sale di banchi prova che è affonica ci hanno preparato una ventola supplementare dove a seconda della necessità possiamo collegare sia questo tubo di mandata per le versioni di vetture che hanno intercooler top mount come il Subaru e tu quella sganci quando il Subaru molli lo porti in avanti qua ovviamente c'è un pezzo di gomma per non rovinare la carrozzeria viene posato davanti all'intercooler e spinge direttamente aria all'interno dell'air scoop della Subaru che fa una differenza notevole fa una differenza notevole soprattutto sulle Subaru dove la temperatura aria aspirata la fa da padrona perché se fai due lanci senza un raffreddamento fatto come si deve inizi a vedere i valori di yacht che salgono oltre i 65-70 gradi e sappiamo bene che sui Subaru non fa bene invece questa è la reazione che usiamo per i motori centrali come questa Lotus dove andiamo a porre direttamente il canale di aria sulle prese d'aria laterali della vettura il banco deve replicare le condizioni su strada qual è il problema? il 90% dei banchi che trovi in Italia e su cui tutti si sono basati nel vedere non hanno la reazione non hanno se tu guardi i video degli americani che fanno i lanci sai quando fanno i Dino Day con le macchine ferme e davanti hanno le ventoline è ridicolo adesso vuoi fare è ridicolo risparla la quantità di aria che fa paura è un banco diciamo decisamente di alto livello ci ha consentito avendolo di portarci anche in casa progetti di sviluppo per case costruttrici perché gli garantivamo la costanza di risultati durante tutti i lanci fatti durante le giornate di prova che sia al freddo o al caldo si riesce a parametrizzare molto bene a temperature regimate del motore quelli che sono la coppia la potenza erogata dal motore quindi come nel caso che ne so dei TCR dove devi fare delle curve di BOP per il balance of performance tu devi avere una costanza di risultati non puoi permetterti di leggere 20 cavalli in più nel lancio dove la temperatura aria della sala non è ancora regimata a che ne so 380 cavalli e poi ne leggi 360 10 lanci dopo perché qua dentro si è creato l'inferno di temperatura queste sono quelle che vi dicevo sono le mandate dell'aria che viene estratta dall'esterno e poi dalle altre tre uscite dove sono poste le ventole viene estratta e praticamente qua quando la ventilazione è accesa la camera rimane in leggera depressione c'è un'atmosfera da film qua dentro dipende molto dall'insonorizzazione mi piace anche la scelta dei colori e poi non avevo mai visto una sala del genere così tecnica questa roba delle mandate di aria che possono essere distribuite su tutta la macchina quindi simulando esattamente quello che succede nella realtà e che ti permettono anche di fare più lanci mantenendo sempre tutto in temperatura insomma dà quella professionalità quella tecnica in più che magari altri sale di banco prova non hanno e poi la scelta di colore di questo posto cioè guardate guardate che figata da questo posto facciamo macchine dove siamo così specializzati che non c'è un limite quindi partiamo dalla direzione opposta che budget hai e poi col budget che hai ti diciamo dove si può arrivare sul ruolo del pianto ci sono tante auto hai visto molte Subaru sì la mia carriera è iniziata con le Subaru perché nel 2004 quando ho iniziato a fare questo lavoro non trovavo nessuno che fosse in grado di preparare le Subaru perché avevo un piccolo team che correva nei rally con le Subaru e da lì abbiamo iniziato a preparare le nostre due Subaru da corsa e in poco tempo si è creato un giro di curiosi che poi sono diventati clienti tra cui Matteo a un certo punto aveva una Subaru e è diventato al nostro cliente la Subaru che c'è giù quella rossa è la tua? no quella rossa è di Marco il nostro motorista io al momento non ho macchine sportive stradali mi diverto con due piccole legend in pista con mio figlio c'ha anche l'Uina02 la prima cosa che ha visto qua dentro e secondo te qual è stata? questa è la macchina del nostro caro amico capofficina RX Engineering credo uno dei migliori motoristi in Italia anche lui se non in Europa relativamente a motori boxer Subaru e questo è il suo giocattolino è un po' di anni che ovviamente a tempo permettendo la sta sviluppando ha montato su tutta un'elettronica live racing che di base è lo stesso hardware Cyvex che volevamo fare poi sulla tua bagai cambio sequenziale caps controllato da pedal shift direttamente al volante il resto è gestito da una powerbox EQ master un dashboard EQ master poi a livello meccanico ha effettuato tutta una preparazione decisamente estrema su base J25 c'è tanto know-how sulla parte di meccanica da parte di Marco e tanto know-how dalla parte elettrico-elettronica di Alberto cioè lei vicino a lei oddio filosofie diverse ciao Fede a rigordi logica una centralina motorsport come l'Ecu master viene montata su vetture dove diciamo l'esasperazione della preparazione è tale che con la centralina stock non si riesce più a gestire diciamo la parte meccanica quindi se è da fare ti consiglierei di farla su un progetto più spinto più spinto assolutamente e poi come mi spiegavi prima la centralina è quello che è la cosa che mette insieme un po' tutti i componenti no? sì esatto a differenza di tante credenze popolali l'elettronica non fa miracoli l'elettronica accorda quella che è la preparazione meccanica quindi se questa non è fatta a regola d'arte è difficile che si vada a compensare con l'elettronica ecco di solito la potenza di top hand ha parità di preparazione una preparazione non voglio dire basica ma non spinta come quella che hai non ti porta ad avere cavalli in più rispetto a quelli che già fai con la centralina come potenza massima lungo tutto l'arco di erogazione invece puoi ottimizzare gli anticipi la carburazione insomma tutti gli elementi di contorno che tendenzialmente o i PID che vanno a regolare la varia sensoristica adesso non voglio scendere troppo nel tecnico però è quello che piace a me cioè stiamo parlando di una cosa cioè poter migliorare i vari punti andare proprio nello specifico certo cioè tu la tua curva la tua curva di coppia e potenza a parità di potenza massima la puoi migliorare magari dai da X a tot giri cioè me la devo costruire te la cuci tu me la cucio io la cucio io allora il vero limite delle mappature su centralina stock è che di base tu lavori su dei protocolli ricostruiti ovvero su X mila tabelle che può avere la centralina di serie adesso faccio il caso di Aris perché ci ho lavorato in modo abbastanza diretto ad oggi ce ne sono mi pare una ventina aperte con gli attuali software di mappatura parliamo di 20 tabelle su migliaia che ne ha centralina originale quindi quando tu vai a modificare quei parametri non sai mai gli altri in retroazione o che cavolo di strategie hanno di controllo sulla base di quelle che stiamo andando a modificare e quindi ti puoi ritrovare con come è già capitato macchine che magari dopo X chilometri ti vanno in protezione piuttosto che non sono ottimizzate al meglio sull'R53 invece è ormai una macchina non voglio dire datata però ha già i suoi anni questi tipi di protocolli quindi di tabelle a disposizione sono già più elevate poi se uno è molto abile a usare winholes che è il classico programma con cui si vanno a decifrare poi in realtà a scrivere le centraline si possono già ottenere insomma i risultati hanno il loro limite con EQmaster il discorso è che hai il pieno controllo in mano di quel che deve fare il motore punto Acme si divide in due macro aree una è dedicata ai clienti privati dove Matteo segue le preparazioni delle macchine e una è dedicata ai clienti diciamo business quindi dove sviluppiamo prodotti tra cui cablaggi e fari per aziende che preparano macchine da corsa questo ad esempio è un faro che stiamo finendo di sviluppare stiamo definendo adesso le caratteristiche del faro sia utilizzando i classici LED che ormai sono utilizzati dappertutto che un nuovo chip che si basa su una tecnologia laser tra i progetti interessanti che stiamo seguendo in questo momento nell'area business to business c'è lo sviluppo della Chimera che è questa riproduzione della 037 rimodernizzata abbiamo un'altra sede in Acme che è a Vicenza dove ci occupiamo di tutta la parte di cablaggi per il motorsport e proprio oggi arriverà un'attrezzatura nuova che penso possiamo vantarci di essere forse gli unici nel motorsport a usare un'attrezzatura che taglia i fili spela i fili e li marca direttamente per poter assemblare velocizzare l'assemblaggio del cablaggio i cablaggi sono alla base di qualsiasi macchina motorsport anzi di qualsiasi macchina anche su una macchina stradale sono chilometri di cablaggi che servono a collegare tutte le utenze noi riusciamo a gestire la macchina nel suo insieme quindi tutta l'architettura della macchina dal cablaggio alle centraline di controllo che possono essere controllo motore controllo della trasmissione o i cosiddetti power box che sono oggigiorno il cervello della macchina perché grazie al power box tu alimenti tutte le utenze e puoi avere delle logiche di funzionamento molto spinte cosa che con i fusibili e i relais delle macchine stradali non si possono ottenere abbiamo una forte passione per i marchi Subaru Nissan Toyota comunque tutto ciò che arriva dal sollevante da due anni a questa parte grazie anche al fatto che abbiamo sviluppato tutta l'elettronica delle vetture Toyota Rally per Toyota Italia e T-Racing abbiamo avuto come dire un exploit tantissimi clienti con gli Aris che sono venuti a bussarci a suonare il nostro campanello per fare preparazioni su questa piattaforma è una bellissima macchinetta è stata la vittima sacrificale di tutti i test di calibrazione elettronica fatti per sviluppare le Yaris la Rally questa è la macchina della morte questa è una storia particolare perché è un Saxo VTS che una sera mentre tornavo a casa malauguratamente una lepra ha deciso di tagliarmi la strada da quel momento lì e con ovviamente mezzo frontale da ricostruire della macchina l'abbiamo fermata e con molta molta calma l'abbiamo rimessa in strada adesso con rivedendo un po' come dire di la ciclistica perché ovviamente è ormai una macchina adesso non mi dicono di che anno mi pare 2001 forse non vorrei dire una cazzata non lo so però anche questa elettronica Qmaster circa 160 cavalli al motore di pura follia di pura follia ma questa è follia vera questo invece è il mio primo regalo che mi sono fatto al compleanno nel 2017 se ricordo bene comprata usata praticamente stock a Cosenza trovata una cifra veramente irrisoria rispetto al mercato che c'è adesso di queste vetture qua usate l'idea con Marco con il nostro motorista era ma sì dai facciamo la turbo e facciamo circa 300 cavalli il problema è che nel tempo come al solito ci è scappata un attimo la mano è stato montato un kit rocket bunny ufficiale e da lì diciamo che avendo allargato la macchina col motore aspirato aveva meno prestazioni di quella originale già che c'eravamo e aveva entrato giù il motore forgiato eccetera è stato montato su un kit turbo fatto custom poi il cambio originale manuale ovviamente non teneva più i newtonmetri di coppia erogati dal motore quindi abbiamo trovato una valida alternativa in un cambio sequenziale della Samsonas già che c'eravamo abbiamo montato un'elettronica Cyvex completa per la gestione anche del cambio sequenziale tramite pedal e alla fine questa è una vettura che la usiamo per fare i test è un po' una vettura a banco prova dove testiamo adesso stiamo testando le Westgate a controllo elettronico insomma ci si diverte si testa un po' di componentistica nuova infatti è sempre ferma c'è sempre il Subaruzzo sì il Subaruzzo lo facciamo il Subaruzzo anche lì c'è una bella elettronica la monta sì il Subaruzzo facciamo una cosa un po' più carina però con il giusto diamo il colpo di grazia al motore lo so che me lo vuoi rompere si rompono da solo i Subaru non serve metterci tanto impegno il mio va tanto bene non c'è una perdita guarnizioni testa post perfetto bronzine perfetto te lo posso assicurare devo solo cambiare l'idroguida che ho preso una vabbè classico problema di Subaru pompa idroguida dove la trovi? originale di Subaru eh sì costa mille euro 650 euro più IVA e passa la povera 780 780 è aumentato la odio infatti ho messo in garage ce l'ho avuta anche io la bagai quindi non non sono gran macchina non ho visto anche gran macchina zero controlli non c'è un tasto è stata la mia macchina da praticamente ne ho patentato ne ho patentato no però l'ho preso a che avevo 21 anni quanti cavalli ci hai fatto lì? ah no in realtà era originale un WRX partito con 218 cavalli ah non era neanche un STI no era uno sfigato esatto ragazzi è un grande simpaticissimo seguiamolo anche sui social vi lascio qui sotto tutto quanto in realtà qua dentro siamo un baranco di cazzari però passiamo anche per quelli che siamo a fare qualcosa se non fossimo così non ci sarebbe tutta questa professionalità questa ricerca questa voglia di fare sì perché serve un po' di genio e follia in queste cose qui ma qua siamo 20 malati di mente è giusto è giusto così quindi andiamo a seguire questi 20 malati di mente su Instagram ACME vado a far benzina si va a far benzina io voglio sentire sta macchina urlare io voglio sentire grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti